Dopo appena 9 minuti, Roberto Carlos ha bruciato Doardo con un missile che ha incanalato la partita su binari, nella zona. Nato dal dischetto, la partita si è coso. C'è per tutti una prima volta, anche per gli ex atalantini. 3-0 di Delvecchio, la partita è praticamente finita. Una grossa ingenuità di Doardo, sulla quale l'arbitro si è limitato a concedere il rigore, ha offerto a Gans l'occasione del 4-0. Un risultato eccessivo per il Torino.